Pato! Ellie! Lula! l'ho fatto l'alieno avete sentito? sembra un alieno dallo spazio coraggio diciamogli tutti insieme ciao pronti? benissimo ciao alieno oh cielo sembra un po' intimidito tranquillo tranquillo sei fra amici piccolo alieno verde benvenuto sul nostro pianeta è la prima volta che vieni qui benissimo allora voglio presentarti ad alcuni nostri amici a proposito vieni in pace è vero? sono sicuro che i nuovi amici ti piaceranno tantissimo ops cos'era? ah è poco io oh no aspetta poco io poco io ciao voglio farti conoscere qualcuno no no è sopra di te poco io ciao poco io il nostro amico è molto timido quindi dobbiamo essere molto gentili con lui molto meglio poco io piano piano qualcuno di voi sa dirmi cos'è questo rumore? pato pato no pato oh no ha di nuovo quel cappello verde calcato sugli occhi pato pato fermati pato stai spaventando il nostro nuovo amico aspetta ci è mancato poco ma dov'è andato l'alieno? ah eccolo là senti mi dispiace moltissimo per questo non capisco pato di solito non fa così presentiamo gli Ellie Ellie no tranquillo non avere paura è davvero molto carina aiuto qui succede un disastro no così non va bene amico amico ciao piccolo amico eccoti qui oh guarda ci sono Ellie e Pato vedi non potrebbero mai farti del male io direi che poco io e l'alieno dovrebbero andare a salutare Ellie e Pato vero? sì salutate Ellie e Pato no non è andata proprio come pensavamo vero? niente paura forse li avete solo un po' spaventati sì eccoli che tornano ragazzi voglio presentarvi il vostro nuovo amico alieno viene dalle galassie dello spazio visto lo sapevo che una volta conosciuti sareste diventati tutti amici inseparabili e adesso che c'è? ah 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 devono essere i suoi genitori forse sono venuti a riportare a casa il nostro amico vostro figlio è proprio un bravissimo bambino siamo stati davvero benissimo con lui mamma liena oh certo certo sei papà alieno che peccato i nostri amici stanno per partire e poco io e Ellie non sono qui a dire a rivederci al loro nuovo amico credo che stiano partendo adesso oh che peccato avete visto anche voi guardate sono poco io e Ellie sono venuti qua su per salutarvi coraggio salutiamoli tutti insieme questi simpatici alieni d'accordo? ciao alieni evviva i nuovi amici ciao ciao tornate a trovarci ciao Grazie a tutti